Oh, fa sempre scappare o fa qualcun altro? Allora, il primo premio, il dodicesimo, è una sacca di scarponi offerta da Camping Spon. Non guarda! Solteggia, non è? Allora, va da destra, va da destra, va da destra! Numero dodici, è il premio dodici, ah eccolo, no, fa saldermi. No, c'è, c'è il codico, non è io. Capito? E' la barucca Simonetta, dov'è la Simonetta? No, no, noi vogliamo dare la barucca Simonetta, dov'è la Simonetta? Finalmente, quando si fanno le gare, le premiazioni, bisogna rimanerci, scherzo, eh? Dai, non se non c'è la prendita, dai, dai, è una sacca! Fatemi di me!